Il nostro ebook è una raccolta di approfondimenti e di pensieri. Firmati dalla nostra redazione e non solo. E la parte più difficile è raccoglierli tutti. Stiamo facendo delle e-money per il nostro ebook. Cioè ciascuna categoria avrà un'icona personalizzata. Cosa che è? Stammi? Dice, oggi. E comunque continuiamo a non essere immuni alla magia del Natale. Cosa vuoi per Christmas, Franci? Vai! For Christmas! E... 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 Cosa vuoi? Noi, 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 noi. Noi, 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 no